Sono iniziate in questi giorni le operazioni di restauro degli 80 tripodi in ghisa del lungomare monumentale di Giulianova. Si tratta di un intervento di particolare delicatezza nell'ambito di un vasto progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica della città, portato avanti da Amministrazione Comunale ed Eraluce, in stretto coordinamento e con la supervisione della Sovrintendenza ai beni storici artistici e antropologici dell'Abruzzo, trattandosi di vero e proprio bene monumentale. Parla il commissario straordinario Eugenio Soldà. Rientra in un'operazione di più ampio raggio che riguarda proprio il rinnovamento di tutto il parco illuminazione della città. È interessante per me, che rappresento oggi il Comune, di favorire il lungomare e la zona marina proprio della città proprio per dare più lustro a questa parte del territorio. Secondo me, insieme ad altre iniziative, questa parte del territorio potrebbe diventare, perché lo è, una vera eccellenza della regione Abruzzo. Questa operazione di restauro degli 80 sarà svolta in due tranche, da 40 e 40 triboli, per evitare che la zona rimanga senza luce, quindi garantiamo un minimo di luce. E rientra anche in un altro piano, che sarebbe la terza fase, che è quella da prima della sostituzione delle lampade, dalle vecchie lampade a quelle che danno più possibilità di risparmiare. E poi quel lavoro della linea interrata, che può garantire miglior successo per quanto riguarda questo servizio.